Con noi Davide Riva, oggi qui a San Patrignano ospite per ritirare il riconoscimento a Braccio 2013 che va anche a suo fratello Maurizio per aver partecipato con grande entusiasmo all'ideazione, alla progettazione e alla promozione del progetto Barrick, la terza vita del legno e per aver condiviso importanti momenti con tutti i ragazzi della comunità. Ecco, qual è stata la prima impressione quando ha visitato per la prima volta San Patrignano? Beh, diciamo che è stato più che emozionante, è stata una sensazione che non potrei neanche descrivere. L'ho forse più percepita quando sono uscito, sono uscito dalla comunità. Ecco, lì ho cominciato a percepire questa grande famiglia che io non credevo, una realtà veramente emozionante. Cioè, non vorrei parlare delle singole persone che ho conosciuto poi nelle varie volte che vengo giù perché io quando vengo, vengo solo per i ragazzi di San Patrignano. Io quando sono qui non mi conoscono tutti, logicamente, però è come se io conoscessi tutti loro. Io vengo solo per loro, cioè, è una cosa veramente, veramente, penso unica al mondo, sicuramente. Faccio un pensiero che io purtroppo non l'ho conosciuto a Vincenzo Muccioli. Gli dico grazie perché è sicuramente stato un visionario di una caratura immensa. Ringrazio tutt'oggi, ringrazio Letizia e Gianmarco Moratti che con il loro tempo e con la loro presenza diciamo che San Patrignano va avanti, andrà avanti. Speriamo con altri progetti e spero che io ne possa far parte. Grazie.